Sapete, nei locali, se tu vuoi entrare in un locale, ci sono tre porte. La porta numero uno è l'ingresso principale. Pieno così, con la fila gigante, capito, tutti in coda, aspettare. La porta numero due è la porta del VIP, la celebrity, che entra, Leonardo Di Caprio entra. Internet è la porta numero tre. Cioè, fino a vent'anni fa, tu avevi solo, nel mio caso, la uno e la due. Facevi la fila per trovare il tuo lavoro, come tutti gli altri, e aspettavi, mandavi il tuo curriculum. Oggi è la porta numero tre, che è quella di dire Posso trovare una strada alternativa, diversa. È difficile, è faticoso, è lunga, c'è un sacco di gente, è un far west pazzesco. Se inizi a metterci la faccia, è pesante, perché ogni mattina io mi alzo, apro un'app, e il commento medio è, ti odio perché sei pelato. Però è un'opportunità straordinaria che spero qualcuno di voi abbia voglia, quantomeno, di esplorare, una buona porta alla quale bussare.